Salve, siamo di nuovo in diretta, qui in Italia del Colosseo, purtroppo, vedete alle mie spalle, è arrivata la forza pubblica e voglio tentare nuovamente lo sgombero. Lasciano là! Dai le mani a mano, questa cazza, le manetta! Lascia la prossima! Forza! C'è un video che sta scopendo la rivela alle fanno, vediamo i telephi! Portiamola via! Stiamo in diretta a già un mille persone, non mi voleva accoglierla sotto a un c***o, non voleva... Oh, riprendimi in faccia e ci metteva Reggina Ceri! Niente, sono stato cacciato, come vedete alle mie spalle, stanno facendo ancora... Mi porti a Reggina Ceri, per cosa? Non posso fare un video, non posso fare un video... Non mi devi riprendere un video! Non mi devi riprendere un video! Mi stai mettere le mani in faccia, mi stai mettere le mani in faccia! È giusto quello che sta facendo, perché se a regalare le dovete aver godiare! Qual è il problema? Qual è questa? Qual è questa? Guarda! Non sto a fare niente! Non sto facendo niente! Non sto a fare niente! Sono giornalista! Sono giornalista! Sono giornalista! Ti faccio vedere anche questo coso! E giornalista? Questa è un po' di testa! Se vanno con me! E non vado a fare niente! Non vado a fare niente! E io non vado a fare niente! E non vado a fare niente!